Salutiamo coloro che da questo momento ci seguono attraverso i social, siamo nel nostro locale di culto di Parma, per quello che è il nostro primo culto di oggi, insieme vogliamo rivolgerci alla scrittura, alla Bibbia, alla parola di Dio, regola della nostra fede, della nostra condotta, la nostra guida, il nostro sostegno, il nostro pane, Dio sia ringraziato per la preziosa parola del Signore. Leggiamo insieme il Salmo 30, Salmo 30. Io ti esalto, Signore, perché mi hai portato in alto e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. O Signore, Dio mio, io ho gridato a Te e Tu mi hai guarito. O Signore, Tu hai fatto risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti. Tu mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Salmeggiate al Signore voi Suoi fedeli, celebrate la Sua santità, poiché l'ira Sua è solo per un momento, ma la Sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Quanto a me, nella mia prosperità, dicevo, non sarò mai smosso. O Signore, per la Tua benevolenza avevi reso forte il mio monte. Tu nascondesti il tuo volto e io rimasi smarrito. Ho gridato a Te, o Signore, ho supplicato il Signore dicendo Che profitto avrei dal mio sangue se io scendo nella tomba? Potrebbe la polvere celebrarti, predicare la Tua verità? Ascolta, o Signore, e abbi pietà di me. O Signore, sii Tu il mio aiuto. Tu hai mutato il mio dolore in danza. Hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia perché io possa salmeggiare a Te senza mai tacere. O Signore, Dio mio, io Ti celebrerò per sempre. E' un salmo scritto da Davide dove egli esprime tutta la sua riconoscenza e gratitudine a Dio per quello che il Signore era per lui e per quello che l'Eterno aveva fatto nella sua vita nonostante, Davide qui mette in evidenza questo, la sua indegnità, la sua umanità, le sue limitazioni, le sue cadute. perché Dio opera in nostro favore e per noi non per quello che noi meritiamo ma per quello che Lui è e per i meriti di Cristo Gesù. E Davide mette qui in evidenza l'opera del Signore in maniera così bella e così, se vogliamo, anche poetica, ma chiara. Nella seconda parte del versetto 5 è scritto La sera ci accompagna il pianto ma la mattina viene la gioia. L'inizio di un nuovo giorno. In altre parole, con queste parole, Davide mette in evidenza che nella sua vita c'era per l'intervento di Dio l'inizio di un nuovo giorno. La sera ci accompagna il pianto cioè alla fine di un periodo difficile, doloroso ma la mattina viene non ci accompagna la gioia viene la gioia. Quindi l'inizio di un nuovo giorno. Esprime con queste parole Davide quella che è la condizione dell'uomo la sera che accompagna il pianto è quella che è l'opera di Dio la mattina che viene la gioia. E vorrei considerare l'inizio di un nuovo giorno di una nuova esperienza di un nuovo periodo per noi, fratelli e sorelle per te, caro in Cristo per l'opera di Dio dividendo questo in tre momenti. la sera del pianto la notte dell'attesa la mattina della gioia. Consideriamo prima di tutto la sera del pianto perché alla sera per tutti noi ci accompagna il pianto. Avete notato? Davide dà per scontato che alla sera ci accompagna il pianto. Non dice se alla sera dovesse accompagnarci il pianto nel caso che alla sera dovesse sopraggiungere una situazione tale da farci soffrire. No, alla sera ci accompagna il pianto perché tutti noi possiamo venire da esperienze particolarmente difficili particolarmente dure particolarmente dolorose. Quali sono queste esperienze? Le conosciamo tutti molto bene e le conosciamo pure per esperienza. Elenchiamone alcune. Per esempio gli eventi stessi della vita. Siccome noi viviamo siamo soggetti alle difficoltà che la vita stessa produce senza risparmiare nessuno. il sole si leva sul giusto e sull'ingiusto e piove sul giusto e piove sull'ingiusto. Quindi la vita è furiera di difficoltà per tutti. Forse da giovani e i più giovani i ragazzi pensano che la vita sarà una meravigliosa passeggiata in carrozza insieme magari al principe azzurro o alla principessa con tanti diservi al servizio ma non è così perché la vita non è una passeggiata in carrozza la vita va portata sulle spalle è dura è faticosa è difficile è furiera di tante esperienze particolarmente dolorose che se all'alba della vita uno le sapesse in anticipo vivrebbe male tutti i giorni della propria vita ma Dio stesso le calibra con misura in modo che man mano che ci fortifichiamo man mano che maturiamo possiamo affrontare anche le situazioni più dure e difficili. sei arrivato a un momento della tua vita al di là dell'età che non ce la fai più e il pianto oramai ha preso il sopravvento nel tuo cuore perché sapete il pianto non è soltanto ciò che esce le lacrime che escono dai nostri occhi che bagnano e rigano il nostro volto ma il vero pianto è quando noi piangiamo col cuore la vita poi ci sono le ingiustizie che è mai capitato di subire un torto che è mai capitato di subire un'ingiustizia non dico che alla quotidianità avviene questo ma molto spesso subiamo dei torti subiamo delle ingiustizie magari da chi abbiamo fatto del bene da chi abbiamo anche aiutato abbiamo manifestato il nostro amore un amore disinteressato e veniamo spesso ricambiati con delle ingiustizie o fin anche con delle cattiverie e allora ci chiediamo perché e questo ci fa soffrire magari un atteggiamento magari una parola magari un qualcosa che qualcuno a noi tanto caro ha fatto nei nostri riguardi nei nostri confronti fratelli e sorelle e rimaniamo disorientati scoraggiati e arriviamo a dire quella famosa frase se mi avesse dato uno schiaffo mi avrebbe fatto meno male perché sapete si dice che la lingua sebbene non abbia ossa rompe le ossa Giacomo fa una descrizione perfetta ma se qualcuno ti ha fatto del male non ricambiare sapete come si vince non chi ha fatto del male perché noi non combattiamo contro chi ci fa del male noi combattiamo contro il male vinci il male con il bene con il bene un esempio bellissimo certo l'esempio per eccellenza è quello di Gesù ma un esempio bellissimo e forse ancora più bello perché è nell'antico testamento è quello di Giuseppe egli vinse il male che i fratelli gli avevano fatto ricambiandolo col bene è vero forse i fratelli non hanno apprezzato fino in fondo ma Dio sì l'importante è questo se è arrivato alla sera del pianto per i torti subiti per le ingiustizie subite coraggio il Signore sa il Signore vede e arriverà anche il nuovo giorno dove tu vedrai la gloria di Dio dove il Signore opererà in tuo favore perché Dio non è in debito con nessuno se tu quando ricevi dei torti delle ingiustizie onori Dio stai pur certo che Dio prima o poi ti onorerà poi gli errori commessi i peccati commessi sono quelli che ci bruciano di più perché c'è anche un aggravante quando noi soffriamo per degli errori commessi c'è l'aggravante che dolore diventa ancora più acuto perché c'è il senso di rimorso se uno ci fa del male non è che abbiamo un rimorso lui l'ha fatto lui ha deciso di farlo ma se noi ci facciamo del male diciamo potevo agire diversamente o se avessi saputo o se non avessi agito con leggerezza ma c'è il dolore ci sono le conseguenze delle scelte sbagliate degli errori commessi e allora sopraggiunge il pianto stai tranquillo il Signore opererà perché se noi commettiamo tanti errori e veniamo meno ricordiamoci che il Signore ci dice una cosa che non si stanca di perdonare Dio non si stanca di perdonarti non dice mai basta mi sono stancato di perdonarti ma dice venite a me e io darò riposo alle anime vostre se confessiamo a Dio i nostri peccati Egli Dio è fedele giusto da rimetterceli e se noi abbiamo peccato abbiamo un avvocato presso il Padre Cristo Gesù il Signore alleluia poi ci sono le malattie le sofferenze il nostro corpo è soggetto alle malattie quando noi siamo colpiti da una malattia non dobbiamo tanto ricercare la causa sì chiediamo a Dio di guarirci perché Dio può guarire da ogni malattia ma soprattutto vogliamo cogliere l'aspetto spirituale che cosa mi vuole insegnare Signore cosa vuole farmi capire Dio perché fratelli e sorelle le malattie e i dolori permessi da Dio hanno lo scopo di farci del bene spirituale qual è questo bene spirituale prima di tutto avvicinarci al Signore quando le cose ci vanno bene siamo tutti così chi più chi meno ma siamo tutti così siamo più portati a fare da soli a emanciparci da Dio quando invece ci troviamo in una situazione di particolare dolore sofferenza soprattutto se riguarda il nostro fisico ecco che allora ci rendiamo conto prima di tutto della nostra fragilità e poi della possibilità che abbiamo di dipendere dal Signore se vi ricordate e ve lo ricordate certamente il diavolo questo lo sapeva molto bene anche nei confronti di Giobbe Giobbe era già stato colpito tremendamente dal Signore aveva perso tutti i suoi figli è un dolore più grande aveva perso tutti i suoi beni ma Satana disse pelle per pelle vedrai se egli colpito da una malattia non ti rinnegherà in faccia e venne colpito da un'ulcera dalla testa ai piedi ma anche lì Giobbe rimase fedele al Signore sei nella sofferenza sei nella malattia non dire perché proprio a me come mai Signore che questa malattia ritorni alla lode e alla gloria del tuo nome sei nella tua volontà guariscimi perché come dicevo Dio può guarire da ogni malattia sei la tua volontà che io rimanga in questa situazione di sofferenza ti prego dammi la forza per superare questa prova e rimanere fedele a te la sera per la malattia per i dolori per le sofferenze poi ci sono le difficoltà impreviste quante sorprese nella vita e il più delle volte queste sorprese questi imprevisti sono difficili sono dolorosi gli imprevisti della vita quasi sempre ci complicano la vita e ce la rendono più difficile è quasi sempre così ma anche quando sopraggiunge un imprevisto un qualcosa non atteso e il pianto alla meglio continua a confidare nel Signore un ultimo aspetto ne potremmo considerare tanti ma un ultimo l'incertezza del futuro e questo forse riguarda soprattutto i giovani i giovani sono in questo momento caratterizzato da una grande insicurezza che c'è nel mondo sotto ogni aspetto fratelli e sorelle il mondo sta tremando il mondo è impaurito e inevitabilmente tutti quanti vengono coinvolti in questo vortice di paura di ansia sapete in quest'ultimo periodo c'è stato un aumento di uso di ansiolitici e di psicofarmaci enorme perché le persone sono spaventate e i giovani più di tutti e siccome i giovani hanno vergogna di far vedere le loro paure tante volte si nascondono dietro a una maschera la Bibbia dice anche ridendo il cuore può essere triste e allora vorrei dire a te giovane o meno giovane se l'incertezza del futuro ti spaventa ed è arrivata la sera del pianto ricordati che il Signore Gesù è con te poi abbiamo la notte la notte dell'attesa a volte la notte dell'attesa è più difficile da passare che la sera del pianto è vero? quando viviamo la sera del pianto quando arriviamo al punto di una situazione dolorosa e difficile forse reagiamo forse cerchiamo di fare quello che è il nostro potere cerchiamo di confrontarci con gli altri perché no come credenti confidiamo nel Signore speriamo nel Signore e alla sera bene o male c'è movimento c'è reazione ma poi arriva la notte dove cala il silenzio dove cala la solitudine fateci caso se noi pensiamo alle situazioni difficili della nostra vita nel cuore della notte la notte funge da amplificatore amplifica tutto la nostra mente di notte è molto più veloce i nostri pensieri nel cuore della notte corrono ancora più velocemente la notte se parliamo della notte del vero senso del termine di notte dove si dorme è la notte quando ti capita di svegliarti nel cuore della notte a motivo dei tuoi tanti pesi delle tue tante preoccupazioni dei tuoi tanti dispiaceri il mio consiglio è fai una sola cosa anzi prima di tutto non accendere il telefono non accendere la tv non accendere il computer e se li hai accesi spegnili quello è il momento di spegnerli e fai una sola cosa apri la parola di Dio leggi la parola del Signore adentrati nella scrittura e man mano che la leggi man mano che vai alla parola il Signore per lo Spirito Santo produce calma serenità fiducia nel tuo cuore perché la parola di Dio è potente ma parliamo della notte dell'attesa come periodo dove noi aspettiamo l'opera del Signore la notte dell'attesa è lunga quando noi riposiamo bene la notte è velocissima quando noi nel cuore della notte ci svegliamo e non riusciamo a riposare è lunghissima eppure è sempre la stessa notte è sempre lo stesso tempo perché dipende dal nostro stato d'animo mi diceva una volta un credente sai fratello in maniera molto semplice ma molto colorita e bella che mi è piaciuto mi ha detto io prima di conoscere il Signore ero così agitato così ansioso così irrequieto così insoddisfatto che alla notte non riuscivo alla sera non riuscivo mai ad addormentarmi da quando conosco il Signore il problema è che la mattina non riesco mai a svegliarmi come a dire dormo talmente bene che dormirei sono talmente fiducioso talmente sereno la notte è lunga la notte è dolorosa perché dicevo poco fa le difficoltà si accentuano si acutizzano e la notte tante volte ci getta letteralmente nello sconforto nello scoraggiamento e in tanti casi fin anche nella disperazione e ci viene quasi quasi la nostalgia della sera dove c'era il pianto perché nel cuore della notte è arrivata la disperazione ma consideriamo il terzo aspetto il più importante la mattina viene la gioia anche qui non dice forse la mattina viene la gioia speriamo che alla mattina viene la gioia no 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 fratelli e sorelle è certo che la mattina viene la gioia perché siamo certi che alla mattina viene la gioia perché alla mattina con noi c'è la fonte della gioia al Signore Gesù che belle quelle parole del salmista che dice mi sono addormentato e mi sono svegliato ed ecco tu Signore eri ancora con me alla mattina sei stato con me quando alla sera c'era il pianto quando passavo dirà Davide altrove nella valle dell'ombra della morte sei stato con me durante l'attesa della notte e sei con me alla mattina perché se alla mattina arriva la gioia non è perché i problemi si sono risolti non è perché le cose sono cambiate è perché il Signore Gesù è con noi perché il Signore ha preso in mano la nostra vita perché il Signore detiene il pieno controllo di ogni cosa perché difficilmente se alla sera c'è il pianto alla mattina c'è la gioia perché le cose sono cambiate nel cuore della notte e perché è cambiato il nostro approccio col Signore la nostra fiducia nel Signore la nostra relazione col Signore perché la notte e la sera ci ha permesso di renderci conto che siamo fragili che abbiamo bisogno del Signore e magari alla sera ci siamo resi conto di tutta la nostra fragilità nel cuore della notte abbiamo toccato le note più basse della disperazione abbiamo gridato a Dio abbiamo confidato nel Signore abbiamo rimesso ogni cosa nelle mani dell'Iddio Onnipotente e questo ha fatto sì che alla mattina arrivasse la gioia la gioia non è il risultato dell'opera di Dio ma della presenza di Dio che opera con noi è la presenza di Dio la gioia se tu nel cuore nel tuo cuore hai la gioia nonostante le avversità e le difficoltà che ruolo hanno poi le difficoltà nella tua vita diventano secondarie sapete il problema non sono le prove le difficoltà perché quelle ci saranno sempre ma il nostro atteggiamento verso le prove le difficoltà i sentimenti che noi proviamo nonostante le difficoltà tu fratello sorella puoi avere una gioia vera piena soddisfacente grande appagante nonostante ti possa trovare nella prova più grande della tua vita perché la fonte della tua gioia è nel Signore trova la tua gioia nel Signore scritto non trova la tua gioia nelle opere di Dio trova la tua gioia nella risposta nel Signore trova la tua gioia nella vita quando le cose ti vanno bene trova la tua gioia nel Signore ecco che qui ci viene in aiuto da Paolo nel cuore della prova della difficoltà scrive ai filippesi sembra quasi quando l'Apostolo Paolo scrisse l'Epistola ai filippesi si trovava in prigione e la chiesa di Filippi era nata proprio in seguito a un'esperienza di prigionia lì a Filippi e scrive a questi cari immaginate quando ha scritto questa missiva e il carceriere di Filippi e la sua famiglia che si erano nel frattempo convertiti che seppero che Paolo era in prigione e sentirono quelle parole rallegratevi nel Signore da capo dico rallegratevi avete notato come l'Epistola ai filippesi così come le altre epistole scritte dall'Apostolo Paolo dalla prigione manifestano tutta la sua serenità tutta la sua fiducia nel Signore e sapete trovarsi in prigione in quei tempi non era come oggi l'Apostolo Paolo aveva delle necessità anche di salute era un uomo oramai non più giovanissimo eppure si rallegrava nel Signore era sereno nel Signore perché perché per lui era arrivato il giorno della gioia è vero da un punto di vista umano è arrivata la sera del pianto ma da un punto di vista spirituale è arrivato il giorno della gioia ci sono due espressioni che la Bibbia usa per indicare Gesù in relazione a un nuovo giorno la stella mattutina la vede chi si sveglia presto la mattina è qualcosa di straordinario la stella mattutina ogni qualvolta c'è in quella direzione io me l'ammiro me la guardo e sembra una cosa così curiosa perché la stella mattutina è presente quando già è l'alba e allora vedete questa stella che è l'unica non ci sono le stelle mattutine c'è la stella mattutina e forse sarà un pochino troppo romantico ma ogni volta che io guardo la stella mattutina mi fermo a considerarla ad ammirarla perché mi parla soltanto di Gesù quella stella la vedi la stella mattutina dopo la notte arriva la stella mattutina Gesù poi Gesù è anche il sole della giustizia quando si alza con tutta la sua forza sapete le no le tenebre ogni volta si ripete questo fateci caso ogni mattina soprattutto chi ha il privilegio perché per me è qualcosa di straordinario di poter vedere le albe io ringrazio il Signore perché riesco ad arrivare ad andare a dormire dopo il tramonto ce la faccio arrivare al tramonto fin lì ci arrivo e quasi sempre vedo l'alba anche in piena estate e l'alba è qualcosa di bellissimo perché con tutta la sua forza il sole scaccia le tenebre le tenebre non sono mai rimaste quando il sole sorge perché il sole vince sempre fratelli e sorelle vogliamo per fede dire Signore che sia l'inizio di un nuovo giorno per la mia vita per la mia famiglia un nuovo periodo dove la gioia della salvezza della tua presenza siano caratterizzate Dio questa mattina ti vuole dare un nuovo giorno una nuova speranza perché vuole fare una nuova opera nella tua vita e nella tua casa credilo e afferralo per fede alziamoci rivolgiamoci al Signore un nuovo periodo un nuovo periodo di un nuovo periodo di un nuovo periodo